Benvenuti! Vorremmo presentarvi l'hotel Rabai. Nel 1965 il nonno, espedito Rabai, sotto i suoi olivi centenari, costruì un campeggio. Il sogno di mamma e papà Boschelli si avvera negli anni 70, quando vede la luce l'hotel Rabai. La struttura sorge a Castelletto di Brenzone, dove il Monte Baldo sembra tuffarsi nel lago di Garda. Il Rabai dispone di 40 stanze, la maggior parte dotate di terrazza vista lago, ma tutte provviste di ogni comfort. Dopo il tramonto, potrete gustarvi una splendida cena, scegliendo fra tre diversi menu e un ricco buffet, direttamente sotto le stelle e gli olivi di nonno espedito. Potrete usufruire della piscina interna riscaldata, oppure giungere in spiaggia tramite il sottopasso privato. Qui troverete una piccola baia, dotata di lettini e puntile privato. E con le nostre city bike gratuite, potrete raggiungere gli incantevoli paesini che circondano il Rabai. L'hotel Rabai è il punto di partenza ideale per tutte le attività del lago di Garda. Vela, kitesurf, windsurf, parapendio, golf e mountain bike, o le incredibili escursioni sul Monte Baldo, da dove godrete di una vista a mozzafiato. Hotel Rabai, Castelletto di Brenzone, Lago di Garda.